C'è la seconda volta che con la classe veniamo a vedere il simposio qua al centro Asteria e devo dire che tutte le volte o comunque le volte in cui siamo venuti i ragazzi hanno come dire espresso poi un desiderio loro di leggere proprio per chi non l'aveva ancora fatto il simposio. Cioè sicuramente è un argomento che tocca profondamente tutti e soprattutto i ragazzi anche perché i vari personaggi danno delle letture diverse dell'amore quindi qualche cosa che loro possono capire che loro sentono perché è un'età in cui loro provano emozioni provano desiderio eccetera ma che suscita anche in vita ad una riflessione. Quindi poi per noi insegnanti almeno per me leggere poi il simposio insieme a loro è diverso. È comunque un modo diverso di approcciare un'opera filosofica. Si può condividere anche o non condividere la modalità con cui è stato rappresentato il simposio ma il risultato a me sinceramente è quello che interessa essendo un insegnante al di là di quello che poi può essere la rappresentazione teatrale che personalmente io trovo molto valida proprio in questo contesto scolastico. Per quanto mi riguarda condivido pienamente quello che dice la mia collega e in più vorrei aggiungere che questa esperienza che noi abbiamo fatto oggi con voi è un'esperienza che completa un'esperienza fatta in classe. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di mettere in scena il mito di Aristofane e raccogliendo le impressioni dei ragazzi dopo questa esperienza cioè il passaggio dalla pagina alla rappresentazione e tutti loro o quasi hanno manifestato la validità dell'esperienza perché hanno detto che sono riusciti ad entrare molto più nel testo. Oggi ancora non ho avuto tempo di raccogliere le loro impressioni però dalle battute che hanno fatto ho visto che hanno colto come dire la lettura ulteriore. Quindi la stratificazione che a livello di comunicazione a livello di interpretazione il testo offre un testo ricco come il simposio ovviamente poi suscita tante reazioni, tante suggestioni.